Ci siamo spostati in Sicilia perché abbiamo visto la filosofia gira un po' per il mare Geo, per il mare Ionio, per il mare Mediterraneo, ma per ora si mantiene lontana da Atene, lontana dalla Grecia. Infatti se noi guardiamo la piantina del Mediterraneo, la nostra solita piantina del Mediterraneo, vediamo che abbiamo avuto filosofi di Mileto, di Samo, di Efeso, di Elea ed ora abbiamo Ad Agrigento che era conosciuta come Acragas, il grandissimo Empedocle. Con il filosofo Empedocle di Agrigento si inizia quella tradizione detta dei fisici pluralisti. Che cosa significa pluralisti? Beh, diciamo che i fisici ionici li avevamo definiti monisti perché erano caratterizzati dal fatto di ricercare un unico principio costitutivo della realtà, un'unica causa materiale di tutte le cose. I fisici pluralisti vengono cosiddetti dai critici perché invece secondo loro le cause sono molteplici. Infatti per Empedocle le cause sono quattro. Lui le chiamava le quattro radici di tutte le cose e usava il termine rizomata che in greco antico significava proprio radici. La critica poi ha preferito tradurre questo termine radici con il termine elementi e infatti le famose quattro radici di Empedocle erano quali? L'aria, l'acqua, la terra e il fuoco. I quattro elementi dei filosofi, i quattro elementi degli alchimisti medievali, i quattro elementi della letteratura fantastica, i quattro elementi fino a quando un certo Lavoisier non scoprì la chimica moderna. Come facciamo noi a sapere che cosa pensò Empedocle? Beh, di nuovo abbiamo un testo da leggere, un testo che ci è stato tramandato non integralmente ma del quale ci sono giunti qualche centinaio di versi. Questo testo è detto Oikatorzoi, che significa le purificazioni. Poi spiegheremo questo titolo. Iniziamo proprio a leggere dal poema di Empedocle. Per prima cosa, ascolta che quattro sono le radici di tutte le cose. Zeus splendente e era avvivatrice, ed edoneo, e nesti che di lacrime distilla la sorgente mortale. Come vedete non sono dei versi chiarissimi per il lettore che vive nel ventunesimo secolo perché dobbiamo interpretarli, dobbiamo sempre interpretarli. Non ci dice direttamente il fuoco, l'aria, la terra e l'acqua. Ce lo sta dicendo in un modo indiretto. E infatti Zeus splendente, che cos'era Zeus? Zeus era il dio del fuoco. Vi ricordate quel famoso frammento di Eraclito che Zeus vuole e non vuole essere chiamato il principio di tutte le cose? Perché è e non è il fuoco in un certo senso. Quindi se noi con Zeus intendiamo, diceva Eraclito, il fuoco, allora bene. Se noi invece con Zeus intendiamo una divinità antropomorfa dalle fattezze umane, allora non ci siamo. E qui Empedocle dice Zeus splendente, ma vorrebbe dire appunto il fuoco. Con Era si riferisce all'aria, con Edoneo alla terra e poi Nesti, che distilla lacrime, fa riferimento appunto all'acqua. Quindi questi quattro elementi sono tutti e quattro costitutivi della realtà. Hanno, voglio dire, lo stesso livello ontologico. Non è che il fuoco ha un essere maggiore di quello che abbia l'aria o di quello che abbia la terra o di quello che abbia l'acqua. No. Tutti e quattro gli elementi sono vero essere. Vero essere come intende Parmenide. Cioè, sono sempre esistiti. Però, la realtà esiste perché questi quattro elementi si mettono in relazione fra di loro. Allora, ecco che il nostro filosofo Empedocle deve introdurre qualche cosa che sia la causa dell'unione e della separazione delle sue quattro radici, dei suoi quattro elementi. E allora, Empedocle ci parla di due cause contrapposte che sono la contesa e l'amicizia, oppure l'amore o concordia contrapposta all'odio o discordia. Cioè, amore e odio o amicizia e contesa sono due forze opposte che sono in grado di mettere in moto il ciclo della nostra vita su questo nostro pianeta. Dicevo, e mi ero dimenticato prima, dovevo tornare sul titolo. Oica torzoi significa, tradotto alla lettera, le purificazioni. Però, quando io lo spiego ai miei alunni, preferisco utilizzare come titolo di questo poema quello che gli è stato dato anche dai latini, che è Carme Lustrale. Perché? Perché con Carme Lustrale diciamo già tutto. Carme ci dice che è in versi. E non è poco, perché, insomma, Eraclito scriveva dei frammenti, altri scrivevano dei trattati, Latone scriverà dei dialoghi, Socrate non scriverà affatto. Quindi non è scontato che si tratti di un poema, perché deve essere un poema piuttosto che un dialogo o un trattato. O degli aforismi, per esempio. E poi Lustrale fa pensare, appunto, il lustro, la pulizia, la purezza, quindi ci fa pensare che è una poesia che porta ad una purificazione, ad una catarsi, quindi. Perciò Oica torzoi possiamo tradurlo benissimo con Carme Lustrale, come facevano i latini. Allora, vediamo un po'. Leggiamo il frammento 55 del Diels Kranz, frammento 6.